La showgirl Elisabetta Gregoracci e il fidanzato Giulio Fratini, hanno trascorso una breve ma intensa vacanza a Marrakesh, in Marocco, durante il ponte del 25 aprile. Tra giri in carrozza, mercatini, amam e momenti di tenerezza, la coppia ha condiviso sui social scatti suggestivi del loro soggiorno, immersa nelle meraviglie della città nordafricana. La vacanza tra le meraviglie di Marrakesh. Elisabetta e Giulio, hanno approfittato del ponte primaverile, per concedersi una pausa dalla routine quotidiana e volare a Marrakesh, città dalle mille sfaccettature e ricca di fascino. Tra le attività preferite dalla coppia, una passeggiata tra le dune in groppa al cammello, Olivia, una serata all'insegna dei sapori tradizionali marocchini in un ristorante tipico, e la scoperta di botteghe artigianali. Momenti di relax e romanticismo. La vacanza è stata anche l'occasione per rilassarsi e godersi momenti di pura dolcezza. Elisabetta e Giulio si sono lasciati coccolare negli amam, e hanno trascorso ore piacevoli in piscina, circondati da un'atmosfera magica e suggestiva. Inoltre, la coppia ha potuto ammirare tramonti mozzafiato nel deserto, regalando ai propri follower scatti indimenticabili. Elisabetta Gregoraci, Marrakesh. Un gioiello da scoprire, la showgirl ha documentato la sua vacanza su Instagram, condividendo foto e video che raccontano la sua esperienza a Marrakesh. Bentrovata Marrakesh sei sempre un gioiello. Mi sto perdendo nei tuoi colori vivaci, nelle tue stradine strette e nei tuoi profumi intensi e particolari. Quanti angolini speciali da immortalare, ha scritto Elisabetta, entusiasta della sua permanenza nella città marocchina. Ricordi indelebili nel cuore. Al termine della vacanza, Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere con i suoi fan le emozioni provate durante il soggiorno a Marrakesh. Alla fine di ogni viaggio, breve o lungo che sia, conta sempre ciò che ti porti via nel cuore. Dei ricordi di questi quattro giorni intensi e meravigliosi verranno con me tutti quei piccoli dettagli di questo luogo variopinto che mi hanno fatto illuminare gli occhi, ha concluso la showgirl. Un periodo impegnativo per Elisabetta Gregoraci? La vacanza a Marrakesh è arrivata dopo un periodo non facile per Elisabetta Gregoraci, che ha trascorso diversi giorni in ospedale accanto al suo ex marito, Flavio Briatore, operato d'urgenza a Milano per l'asportazione di un tumore benigno al cuore. Intervento chirurgico, fortunatamente riuscito, ha rappresentato un momento di grande preoccupazione per la showgirl, che ha voluto essere vicina all'imprenditore in questo momento delicato. Il sostegno di Giulio Fratini, durante le difficoltà affrontate da Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha potuto contare sul sostegno del fidanzato Giulio Fratini. La coppia, dopo aver superato insieme questo periodo di tensione, ha deciso di concedersi una vacanza rigenerante a Marrakesh, per ritrovare serenità e trascorrere momenti di relax e romanticismo.